Buongiorno e bentrovati. Buongiorno e bentrovati. Un'ennesimo femminicidio che non è avvenuto nella nostra regione ma che coinvolge una pescarese d'origine. Infatti pescarese uccisa dall'ex marito. Tutto questo è avvenuto a Udine, vittima la sommelier Donatella Briosi, donne del vino in lutto. Ecco a centropagina una foto della vittima, un omicidio, suicidio che peraltro si è consumato ieri nello studio di un notaio. Poi vedremo qualche altro dettaglio all'interno dei quotidiani locali. Vediamo altri richiami sul fronte nazionale con l'inchiesta a Roma sul nuovo stadio, nove arresti eccellenti. Poi questo giovedì, questo pomeriggio inizieranno i mondiali di calcio in Russia, Russia in campo e la Spagna cambia CT. I mondiali inizieranno alle ore 17 con la gara inaugurale tra Russia e Arabia Saudita. Poi di spalla leggiamo ancora vertice in procura, inchiesta mensa, arrivano gli 007 del Ministero. Sempre a Pescara commercianti contrari alla riviera chiusa e a Montesivano troppi furti, stop ai parcheggi alla Stella Maris. Poi sotto la fotonotizia la regione vende 27 palazzi, l'ente fa cassa tra gli immobili l'ex Cofa di Pescara e l'ex Enal di Chieti. E poi ancora scontro elettorale, tagli agli ospedali, il Movimento 5 Stelle risponde al PD e l'intervista all'assessore regionale Sclocco. Più donne in regione con la nuova legge. Infine in basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, siamo tutti più stupidi ma non disperate. Un commento a una ricerca sullo sviluppo, sulla involuzione del quoziente intellettivo nelle più giovani generazioni. Avanti ancora siamo sull'edizione di Chieti del Centro. Ecco l'apertura, crolla il controsoffitto all'asilo nido a Chieti, bambini portati fuori dai vigili del fuoco, scatta la chiusura. E poi la fotonotizia, boom di moto, solo 14 giorni di ferie alla Honda, lo stabilimento delle due ruote, dunque con il boom di moto come leggiamo. Di Spalla, Chieti, settimana mozartiana, ecco i debiti. A Lanciano, porta San Biagio, ci sono i fondi per il restauro. E a Vasto, svolta verde per il porto di Punta Penna. Andiamo ora a vedere l'edizione terramana del Centro. L'apertura dedicata alla cronaca, in particolare alla giudiziaria. Tordino inquinato, quattro condanne, percolato dagli impianti Cirsu nelle fiume, otto mesi agli amministratori. E poi ovviamente la politica a centropagina con la fotonotizia a Teramo dopo il primo turno delle elezioni comunali. Il verdetto è quello del ballottaggio tra Gianguido D'Alberto e Giandonato Morra. D'Alberto e Morra alla ricerca di accordi per vincere. Tutto questo verso il ballottaggio di domenica 24 giugno. E poi ancora la cronaca di Spalla a Roseto. Il processo Vigili, l'ex capo, facevo le multe dalla mia auto. E poi elezioni, l'altro comune che va al ballottaggio, ovvero Silvi, la sfida tra i candidati e i suoi giovani. Con Andrea Scordella e Francesco Comignani che si daranno battaglia nel ballottaggio del 24 giugno. A Giulianova l'idea, negozi nell'ex mercato in abbandono. E poi la prima pagina del centro, edizione Aquilana, profughi spacciatori in trappola. L'Aquila e Avezzano, quattro in carcere, erano ospitati in centri di accoglienza. E poi ancora la fotonotizia. È accaduto ad una pensionata di Trasacco, crede di vincere 500 euro. Invece è mezzo milione. Beata lei. E poi a Sulmona, di spalla, coltellano migrante, due denunciati. A Celano acquisiti atti su appalti e contributi. E poi i mondiali di Atletica Master, Malagò approva la candidatura dell'Aquila. E siamo ora alla prima pagina del messaggero Abruzzo, con l'apertura uccisa con un colpo alla nuca. Donatella Briosi, 64 anni di Pescara, affreddata dall'ex marito in uno studio notarile. L'uomo si è suicidato subito dopo. Rabbia tra le amiche e le colleghe della donna, nota sommelier. E poi una serie di richiami che leggiamo sotto la testata. L'intervista con Gianluca Vacca. Abruzzo al governo. Sono pronto a dare il meglio. Piazza Contesa, i taxi di Chieti all'assalto dell'aeroporto. Rischio tensioni. E poi per la MotoGP, le parole del pilota vastese Iannone. Ho scelto io di passare all'Apriglia, all'Asso di Vasto, alla vigilia di Caretz. Protagonista a Pitti come testimonial. Per la prima volta parla anche della situazione del rapporto con Belen. Poi di Spalla, musica e arte colorano il territorio di Spoltore. Da oggi fino al 24 torna Simballo, culture diverse in scena. La fotonotizia sul Mona, assalto al centro per rifugiati all'Aquila, arresti per droga tra migranti. Si parla di bomba etnica sul messaggero. E poi in taglio medio, mistero a Chieti, due in ospedale con un feto morto. Indagano i carabinieri dopo il ricovero di una ragazza con problemi di droga. A Cupello brucia la maxidiscarica Civeta sotto controllo. E infine a piedi pagina Teramo, Asl e Ruzzo, Valzer di dati sull'acqua. Passiamo ora alla prima pagina della città. Il quotidiano della provincia di Teramo, apertura dedicata alla politica. Con Morra scatta già il toto assessori. Tra manuale Cencelli, quota rosa e anticipazioni, la giunta di centro-destra è quasi fatta. Sotto la testata. Il grave episodio sul Mona. Entrano al centro migranti armati di pistola. Un ferito. A Giulianova una bomba a mano nel giardino di casa. Fratelli d'Italia, ripascimento elettorale delle spiagge. E poi la fotonotizia a centro pagina. Quattro condanne per il puzzone. Concluso l'ennesimo processo per i rifiuti del CIRSU. E poi ancora la politica ai lati della prima pagina. Da una parte ci sono le parole del leader di Futuroin, Paolo Gatti. Con Morra, 12 volti nuovi in consiglio. E poi se vince D'Alberto, Covelli, candidato sindaco nella prima tornata, nel primo turno, va fuori dal consiglio comunale. E poi sul fronte centro-sinistra l'appello di Mariani, basta giocare a perdere. Uniamoci a D'Alberto. Accordi apparentamenti, candidati sconfitti decisivi al ballottaggio. E poi a Roseto, vigili di notte, antimovida molesta. La petizione dei cittadini smuove il sindaco. In basso, solidarietà il Vescovo Centauro a San Gabriele per il fronte calcio. Teramo calcio, la cessione delle cose a Candeloro nella fase decisiva. Lasciamo i quotidiani locali, passiamo ora ai nazionali. Chiaramente con ancora le tensioni tra l'Italia e la Francia dopo la vicenda migranti, la vicenda Aquarius in particolare. E allora, sul Corriere della Sera, questa l'apertura ha congelato il vertice di Parigi. Salvini chiede le scuse, Macron insiste, Conte pronto a rinviare la visita. Moavero, così i francesi compromettono le relazioni, l'appoggio del Colle. Poi ancora, sotto la testata, con l'inchiesta sul nuovo stadio a Roma, spendono qualche soldo sulle elezioni la rete del costruttore dello stadio di Roma. e le reazioni, l'imbarazzo dei Cinque Stelle di Maio da Raggi. E poi ancora la fotonotizia. Come detto, oggi scattano i mondiali di calcio in Russia. Il gol che Putin sogna, rilanciare la sua Russia. Oggi via i mondiali e la Spagna esonera il CT. Siamo sulla prima pagina di Repubblica, l'apertura a Roma, lo stadio della corruzione. Sotto accusa il sistema Raggi, arrestati il costruttore Parnasi e il superconsulente dei Cinque Stelle. Nell'inchiesta pure fondi alla Lega. E poi sotto la testata, Macron non si scusa, Salvini ordina niente, vertice in sospeso il viaggio di Conte a Parigi. E poi ancora la prima pagina del Fatto Quotidiano, anche in questo caso grande spazio all'inchiesta romana. La retata del cambiamento, stadio a Roma, Neguai, Cinque Stelle, Lega e Company. Poi in basso, in manette per corruzione e altro, il costruttore Parnasi, che finanziò pure la Onlus leghista. E il Mr. Wolf Cinque Stelle, Lanzalone, consiglieri PD e di Forza Italia. Poi una serie di richiami di spalla. Il caso Aquarius, crisi diplomatica con Parigi, alleati a Berlino e Vienna. Trafficanti di uomini, i predoni della costa libica tra violenze e nuovi affari. E poi un commento di Silvia Truzzi. Monsignor Macron, cosa avete voi da insegnarci? Avanti con la prima pagina del messaggero, ovviamente quotidiano romano. Non può che dare l'apertura alla medesima vicenda, quella dello stadio a Roma. La cupola di Parnasi, soldi e favori, nove arresti dal costruttore a Lanzalone, consulente Raggi. All'ex assessore PD, indagati esponenti di Cinque Stelle e Forza Italia. IPM, corruzione sistematica, timori Cinque Stelle per il governo. E poi sotto la testata, calcio in tv, assegnati a Sky e performe i diritti della A. Salvo, novantesimo minuto. Al via il mondiale c'è Russia-Arabia, Spagna shock, CT cacciato, Lopeteghi. Poi ancora in taglio medio, Macron niente scuse all'Italia. Conte rinvia il vertice di Parigi, caso migranti sale la tensione, Francia isolata nell'Unione Europea. Poi le novità del fisco, negozi in arrivo la cedolare secca e per quelli non affittati niente IMU. In basso l'untore di Ancona positivo all'HIV rivela, ho avuto 228 relazioni, la compagna lo denuncia. Andiamo ora con il manifesto che apre così, disintegrate. In Europa tutti contro tutti, sull'immigrazione saltano i coperchi. Salvini rilancia lo scontro con l'Eliseo e Macron raddoppia. Non do ragione a chi cerca la provocazione. Conte verso la rinuncia al vertice di Parigi. E scontro anche in Germania tra Merkel e il suo ministro dell'Interno, che l'Oda Salvini incontra il premier austriaco, nuovi alleati del gruppo antimigranti di Visegrad e l'antipasto del Summit UE di fine mese. Poi Roma capitale, tegola sul Movimento 5 Stelle, stadio in campo. La corruzione è ora libero. Ecco l'apertura. Salvini taglia la mancia ai profughi da 35 a 20 euro. L'odevole iniziativa del ministro Leghista. Si tratta di uniformare la paghetta versata dall'Italia ai migranti alle tariffe vigenti in Francia, Austria e Germania. Il responsabile del Viminale è criticato dall'opposizione che ignora le regole adottate dall'Unione Europea. E poi la fotonotizia al centro. Il ballista Saviano afferma Gli stranieri non costano niente. Lo scrittore non sa neanche fare il conto della serva. E poi in basso anche ai grillini piacciono le mazzette. Inchiesta sullo stadio della Roma. Tutta da dimostrare. La prima pagina del Sole 24 Ore. Fed al secondo rialzo dei tassi. Il nuovo intervento dell'era Powell porta il costo del denaro all'1,75 barra 2%. Oggi il board della BCE discute per la prima volta la fine del quantitative easing. Poi in taglio medio stadio della Roma. Inchiesta per corruzione. 24 indagati, 9 arresti. E la fotonotizia. Crescono le imprese piccole e giovani. Avanti con il giornale. Bufera sulla giunta. Raggi arrestato. L'uomo di Grillo. Tangenti per lo stadio della Roma. Nella retata anche il fedelissimo Lanzanone. Mi costava di più prima. Così il costruttore pagava tutti. E poi chiaramente ancora la querelle sui migranti. Macron il traditore. Non ci chiede scusa. E conta nulla la visita all'Eliseo. E poi Salvini fa il vero premier. Spaventa Di Maio e Company. Il maschio alfa dell'esecutivo. Avanti ancora. E siamo alla prima pagina del tempo. Onestadio. Questo è il titolo d'apertura sintetizzato in questo neologismo. 9 arresti. 16 indagati. Accuse shock. Bomba sull'impianto della Roma. I 5 stelle nella maxi retata per corruzione. C'è l'uomo di Grillo. Il capogruppo Ferrara. Nelle carte spuntano altri. E la raggi trema. Poi in basso ecco le intercettazioni sui 5 stelle. I Big M5S. Al centro dell'intreccio tra politica e affari. La prima pagina della stampa. Roma tangenti ai politici per lo stadio. Adesso l'inchiesta spaventa il governo e la rete del costruttore Parnasi con l'uomo di fiducia di Di Maio. Pago per me è un investimento. Soldi e favori coinvolti 5 stelle, Lega, PD e Forza Italia. Il tesoriere del carroccio. Per noi solo donazioni. E poi Juncker, media fra Conte e Macron. Mattarella, bisogna evitare lo scontro. E quindi la fotonotizia via ai mondiali di calcio. Così la Russia rompe l'isolamento. La prima pagina della verità. I motivi segreti dell'attacco francese. Le ridicole accuse sull'Aquarius nascondono gli interessi economici di potere in ballo. Macron che sperava di arruolare il Movimento 5 Stelle spiazzato dall'intesa italiana con Trump e vede messe in pericolo le sue mire su Libia, banche e difesa comune dell'Unione Europea. E poi ancora andiamo con la prima pagina del mattino. L'apertura sud. L'alleanza dei governatori. Il patto delle assunzioni tra De Luca e i presidenti di Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia. 200.000 posti per coprire il turnover della pubblica amministrazione. Vogliamo contare di più. E poi questa foto che ieri ha fatto il giro sul web con gli allenatori Sarri, Sacchi e Guardiola. Gli artisti del pallone. Sarri con Guardiola e Sacchi. La cena dei re del bel calcio. Poi la fotonotizia. Macron. L'Italia provoca. Non mi scuso. Conte non va a Parigi. Asse con il colle. Poi ancora andiamo a chiudere con l'avvenire. La prima pagina dell'avvenire che titola così. Questo è il titolo d'apertura della prima pagina. Prima alla famiglia. Crollano ancora le nascite. Persi 100.000 italiani. Il governo guarda pensioni e fisco aziendale. Salvini annuncia una rivoluzione con flat tax e cedolare secca per i negozi. Il forum si volti davvero pagina a favore di genitori e figli. Lasciamo i quotidiani nazionali e torniamo ai locali. Ripartiamo da pagina 2 del centro. L'argomento resta di strettissima attualità. La convivenza con i migranti, dai sindaci, i primi segnali di accoglienza dal pozzo. Guardia Grelle da noi. 50 giovani seguono corsi di formazione, lavorano e ci aiutano in paese. Poi l'altra faccia della solidarietà. Teramo corre per aiutare i bambini della Tanzania. In basso il sit-in a Pescara. In piazza per far riaprire i porti. Anche in Abruzzo la manifestazione contro la decisione di respingere i profughi. Avanti ancora. La regione vende immobili per 27 milioni. L'ex cofa, la palazzina Fea di Pescara, il palazzo del fascio di Chieti, la sede del Gran Sesso Science Institute all'Aquila. Ecco quanto costano. La delibera proposta dal governatore D'Alfonso riguarda decine di fabbricati. Anche a Giulianova, Teramo, Avezzano, Gioia, Dei Marsi e un dancing a Caramanico. Questa è la panoramica dei palazzi, degli immobili che la regione vorrebbe mettere in vendita con anche gli eventuali importi. In basso stop alla stangata sugli agricoltori. Sospiri e Febbo spiegano la legge che finanzia il consorzio di Bonifica Centro. Andiamo avanti. Andiamo sulla pagina Abruzzo. Eccola qui. Pagina 12. Verso le elezioni regionali. Tagli degli ospedali. Scontro, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico. Marcozzi ribarte ad Alessandro. Voi avete applicato il decreto della Lorenzin. Non scaricate le responsabilità su di noi. E poi ancora in taglio medio le parole dell'assessore regionale Marinella Sclocco. Più spazio alle donne in regione. Nuova legge sulla doppia preferenza per Marinella Sclocco. È solo il primo passo. E poi ancora le reazioni di associazioni e politici per la CNA superate le differenze. Acerbo, segretario del Partito della Rifondazione Comunista. Finalmente una buona notizia. Meglio tardi che mai. E ora le pagine di Pescara con il delitto che si è consumato a Udine che ha visto coinvolta una donna originaria di Pescara. Uccisa dall'ex marito nell'ufficio del notaio. La vittima è Donatella Briosi. 64 anni della famiglia del Ferramenta. Era separata da 8 anni dall'architetto che le ha sparato. e poi si è tolto la vita. Dunque, ennesimo femminicidio, ennesimo femminicidio suicidio. Questo è il momento in cui la salma viene portata via dall'ufficio del notaio dove si è consumato il delitto. Questi sono alcuni scatti della vittima qui proprio nel foto di gruppo con le donne del vino. Poi la testimonianza. L'ultima telefonata al fratello era tranquilla come al solito. Poi ancora in basso il ricordo delle donne del vino legata al suo Abruzzo, al Vinitaly, l'ultimo incontro con la sommelier. La giornalista Gomez, quando tornava, faceva sempre il giro delle cantine. Ci sono poi delle testimonianze, in particolare di Stefania Bosco, una donna dolcissima e di grande professionalità, molto vicina alla nostra delegazione per il suo legame con la regione. Poi Cristina Cataldi, sempre stata una persona aperta, serenissima, solare. Una persona speciale, molto attiva su tutti i fronti. Poi ancora siamo a pagina 17, Mense. in vertice in procura con i tecnici del Ministero sulle analisi dei pasti, test, primi risultati in via di approfondimento. Ma il Comune punta alla risoluzione consensuale del contratto per la refezione. E poi questo striscione che ieri è apparso all'esterno dello stadio direttico Cornacchia, stadio che si appresta a ospitare la finale play-off di Serie C tra Cosenza e Siena. La curva Nord contesta la partita Siena-Cosenza. Né Cosentini né Senesi, la Nord e dei Pescaresi. Questo è il contenuto dello striscione. Avanti ancora, siamo a pagina 18, lo scontro sul progetto. I commercianti giù le mani dalla riviera. Oltre ai balneatori contrari alla penalizzazione, Confcommercio e Confesercenti, la replica di Diodati. E' solo una ipotesi. E poi ancora, no del tar al poliziotto che vuole trasferirsi a Pescara per il figlio. Ricorso respinto da un assistente del reparto mobile di Bologna che si appella alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. E poi in taglio medio, leucemia, il battello dell'aila Pescara. Sognando Itaca, ecco la barca che aiuta la ricerca. E poi ancora in basso, concerto dei Negramaro ai nuovi donatori. Nella giornata mondiale dedicata alla raccolta di sangue, la FIDAS dona due biglietti a chi porta un amico. E siamo all'evento di sabato. Come vi ho detto in precedenza, in occasione dell'articolo che parlava di quello striscione apparso all'esterno dello stadio adiretico Cornacchia. Calcio che passione, tre giorni imperdibili per i 120 anni della Federcalcio. Partite, convegni e presentazioni sono delle giornate che anticiperanno appunto la finale playoff di Serie C di sabato prossimo. Tanti eventi, tanti convegni anche per celebrare i 120 anni della Federcalcio. Poi l'esposizione all'Aurum della Coppa del Mondo, vinta dagli Azzurri in Germania nel 2006. Ieri la presentazione di queste giornate con le parole del presidente della Lega di Serie C, l'abruzzese Gabriele Gravina. Sarà questa partita tra il Cosenza ed il Siena per assegnare l'ultimo posto valido per la Serie B, ma in questi quattro giorni ci saranno mostre, convegni, dibattiti. Si parlerà di calcio a 360 gradi? Sì, noi si parlerà di calcio come contenuto, ma dobbiamo parlare anche di tanti contenitori. Noi abbiamo lanciato l'idea e poi lo verificherete, lo verificheranno tutti gli appassionati del calcio pescarese, e non solo, qui all'Aurum, all'Ex Aurum abbiamo allestito un progetto di comunicazione che sono tre espressioni per noi fondamentali e quindi ci ispiriamo ai valori. Noi stiamo creando dei contenitori, delle macro aree nelle quali dobbiamo operare per far sì che il calcio davvero cominci a diventare un nuovo umanesimo e quindi rappresenti il vero rinascimento del nostro paese. Presidente, possiamo dire che da oggi si inizia a lavorare, la Lega di Serie C inizia a lavorare anche per la prossima stagione, per il prossimo campionato, si guarda al futuro? Noi guardiamo sempre al futuro la Lega in continua evoluzione, una Lega in movimento, una Lega dinamica. Devo dire che in maniera molto scherzosa qualche giorno fa qualche mio collaboratore mi ha detto Presidente, fermati, non riusciamo a seguire questo tipo di processo che è un processo sempre proiettato verso il futuro. Noi sappiamo che la nostra è una Lega che non è, tra virgolette, normale, non è ordinaria. La nostra è una Lega laboratoria, una Lega che deve sperimentare, deve provare di tutto. E non a caso la politica dei tre punti, la politica dei play-off è nata qui in Lega Pro e si sta evolvendo qui in Lega Pro. Quindi noi siamo la Lega dell'innovazione. Pagine di Montesilvano, troppi furti, Stella Maris non apre, la provincia scarica sull'impresa, l'area non può essere concessa per motivi di sicurezza. Poi sempre a Montesilvano rifiuti, 17 incivili multati a maggio con le fototrappole, sorpresi a gettare ingombranti, Pagheranno 4.200 euro l'assessore Cigli, il tutto per non usufruire di un servizio gratuito. E poi a Francavilla c'è il gestore, riapre lo stadio del mare. Un anno dall'inaugurazione ha risposto al bando del comune e l'associazione Didi Emanuel di Pescara. E a due passi sorge il tugurio di scarica, rifiuti di ogni genere nell'edificio di Roccato sulla spiaggia in Contrada Foro. Siamo in Val Pescara, Caterina, folla all'addio sempre nel cuore, centinaia di amici si sono uniti al dolore dei familiari e di un paese in lutto. L'omelia del parroco, il ricordo della sorella, la sfortunata Caterina Pettinella, vittima di un incidente stradale a Tocco da Casauria. Avanti ancora, siamo alle pagine di Chieti, i danni di un'ora di pioggia, crollano i controsoffitti nell'asilo Nido, paura durante la bomba d'acqua al Peter Pan, bambini evacuati dai vigili del fuoco. Il sindaco chiude la struttura due giorni e poi disagi anche all'università, a farmacia, alle aule si allagano, sedie e scrivanie nell'acqua. E poi ancora, settimana mozartiana, ora spuntano i debiti. L'ex direttore artistico Dorazio denuncia, artisti non pagati nel 2016 e nel 2017, Di Primio, soldi già pronti, non sono stati dati per cause indipendenti dal comune. Allora ascoltiamo proprio lo sfogo del sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. Siamo nei soliti purtroppo di una regione che ha parole molto forti ma che quanto ha fatti è assai deludente. Purtroppo lo è anche su temi importanti, importantissimi, per i quali è venuto l'appello da parte di tutti, persino del vicepresidente Legnini, che in occasione di una manifestazione proprio al Maruccino ha ricordato al Presidente della Regione come sia assolutamente necessario che il Teatro Maruccino abbia i finanziamenti che gli sono stati promessi. Non annulliamo ovviamente le manifestazioni del bicentenario ma certamente queste vengono ridimensionate se non arriveranno i soldi che la Regione ci ha promesso. Il Comune ha messo tutto quel che poteva, abbiamo messo anche più di quanto avevamo a disposizione ma adesso siamo arrivati ad un punto nel quale o arrivano i soldi che sono stati promessi dalla Regione, forse arriverà il 2017, non c'è notizia del 2018, quello c'è quanto promesso per il bicentenario, se non arrivano quelle somme ovviamente la produzione che era stata già programmata per questa estate non potrà che essere ridotta. C'è un'altra vicenda, quella della Biblioteca dei Meis, soldi promessi che non arrivano, so che la riguarda, diciamo, la sfiora, però c'è anche questo problema. No, non mi sfiora, mi riguarda pienamente perché è un altro danno fatto alla nostra città, sono altre promesse di un Presidente con due poltrone ma ahimè anche con due parole perché non riesce a mantenere fede alle parole che vengono date davanti alle persone che si sono impegnate per salvare quella istituzione culturale. Oggi noi abbiamo la Biblioteca che è in qualche modo ferma, abbiamo soldi promessi dalla Regione che non sono stati erogati e non possiamo fare gare d'appalto se non arrivano i soldi che sono stati promessi. Questo è evidente, lo sa la provincia che deve fare quell'appalto, lo sanno le persone che stanno lavorando sulla organizzazione del trasferimento di quella struttura nella ex caserma bucciante. Sempre sulle pagine di Chieti, alla Honda soltanto due settimane di ferie, periodo di lavoro intenso nella fabbrica delle due ruote vicina alle 100.000 moto prodotte. Ora le pagine di Teramo verso il ballottaggio proprio nel comune Teramano di Pasquale. Ora l'accordo per far vincere D'Alberto parla il candidato sindaco che nel 2014 recuperò il 23%, così Morra perderà. Poi ancora la rimonta è possibile, in questa fase si vota per il progetto e la persona più credibile si uniscano le forze che intendono evitare quello che sarebbe un Brucchi Ter. E poi in basso le parole di Paolo Gatti, se Morra ce la fa, 12 consiglieri nuovi, Gatti gli schiera tutti lungo il corso per smontare l'accusa degli avversari sulla continuità con il passato. Avanti ancora, percolato nel fiume, quattro condanne per il tordino inquinato dal CIR su otto mesi all'ex presidente Di Matteo e ai vertici del CSA dell'Aquila. La multa a De Carolis, il PM in pianto da chiudere. E poi a proposito di ballottaggio sarà sfida anche a Silvi. E allora Silvi è sfida sulle politiche giovanili. Scordella propone l'istituzione di una consulta dei giovani entro i primi 100 giorni di amministrazione. La replica dell'ex vice sindaco Partipilo, che replica per conto di Comignani. Abbiamo già fatto molto e ora uno sportello per trovare lavoro. Ad Atri c'è il nuovo sindaco, si tratta di Pier Giorgio Ferretti. La priorità di Ferretti più bus per Atri. Il neosindaco vuole istituire una navetta e sulla possibile chiusura del centro dice prima i parcheggi. E poi a Roseto, l'ex capo dei vigili in aula. Così facevo le multe dalla mia auto. Cava è imputato per falsità ideologica nell'ambito del processo sulla cosiddetta multopoli. L'accusa agiva anche per ottenere l'indennità di risultato prevista all'epoca dal comune. Andiamo a chiudere con le pagine aquilane. Presi i profughi spacciatori, 31 richiedenti asilo ospitati in centri di accoglienza, 4 in carcere. Gli altri indagati, inchiesta tra l'Aquila, Vezzano e Sulmona. L'indagine è scattata dopo una rapina e un tentativo di violenza sessuale e danni di una 26enne aquilana. Per il GIP i soldi sostenevano anche le famiglie rimaste nei paesi di origine. Le perquisizioni compiute anche a Roma e Firenze, grazie all'aiuto offerto da altri profughi, sono state tradotte le intercettazioni telefoniche della polizia. Poi ancora, sei mesi fa, alta tensione nel centro storico. C'era stata una rivolta dei residenti per la struttura per migranti di Via Roma. De Santis, Italia dei Valori e Cascere, Lega di Avezzano, lanciano l'allerta. Noi ci fermiamo per il momento, diamo lo spazio alle previsioni del tempo, poi alla pubblicità e poi ci ritroviamo con la seconda parte di Mattino 6. Di nuovo, buongiorno, seconda parte di Mattino 6, subito con il messaggero Abruzzo. Energie rinnovabili, cave e capannoni, il fotovoltaico cerca nuovi spazi. I terreni agricoli sono esauriti in Abruzzo, le società puntano sui tetti, ma va prima redatto un piano amianto per la bonifica. Bene, il consumo di elettricità da fonti alternative è giunto a quota 60%, per il solare servono nuovi impulsi. E poi, emergenza migranti, con i due fatti avvenuti ieri, tra Sulmona e gli arresti effettuati dalla mobile dell'Aquila. Allora, Sulmona in due assaltano armati il centro di accoglienza, forzano il portone d'ingresso, seminano il panico, sferrata una coltellata al fianco di un ospite extracomunitario. Per gli investigatori, quella dell'altra notte, verso le 23, ha tutta l'area di essere una spedizione a sfondo razzista. E poi, all'Aquila, da richiedenti asilo a gang della criminalità, la sofferenza era diventata una copertura. Da una tentata violenza sessuale si è scoperta una vera e propria organizzazione con compiti precisi. E il sindaco Biondi scrive a Salvini, La Lega insorge, ora basta. E poi ancora, siamo sulle pagine di Pescara, Pescarese uccisa a Udine dall'ex marito, shock in città per la morte violenta di Donatella Briosi, nota sommeglie, il delitto è avvenuto nello studio di un notaio, una famiglia molto in vista, con tante amicizie. Su Facebook la rabbia di colleghe produttrici di vino, una persona solare. è finita in tragedia l'incontro per la vendita di una proprietà comune e l'uomo si è ucciso sparandosi con la stessa pistola. E poi ancora decine di testimoni, un'avvocatessa ferita, la sequenza di spari ha creato panico tra i passanti in pieno centro. Tornando a Pescara, bici più treno, una stazione all'avanguardia, l'accordo tra Trenitalia e Lega Ambiente consente a tutti i viaggiatori di noleggiare mezzi a due ruote. Vediamo il servizio. Si parla tanto di Green Mobility e il futuro questo di Marco. Oggi avete presentato un testo, un libro che parla proprio della Green Mobility che vorreste esportare a pescare nell'area metropolitana. Sarà possibile in un tempo futuro, in un prossimo futuro? Sicuramente è fattibile, anche perché ci sono realtà altrove che sono già futuro e quindi si tratta semplicemente di copiarle, non c'è un grosso lavoro da fare. Certo è che bisogna mettere insieme la giusta sinergia e partnership non solo a livello pubblico ma anche privato affinché anche su Pescara possiamo avere servizi sulla nuova mobilità che sostanzialmente mette al centro l'intermodalità, la mobilità intelligente e l'utilizzo di più mezzi e più servizi che danno anche un attenzionamento su quello che è la qualità della vita. Lei prima diceva in conferenza stampa giustamente che l'alternativa dell'auto è importante ma bisogna poter scegliere. Ci devono essere queste alternative? In Abruzzo, a Pescara siamo già pronti? L'alternativa ci permette di scegliere. Se vogliamo scendere dall'auto privata e quindi contribuire a quella mobilità sostenibile dobbiamo potenziare i servizi che ci permettono di fare altro. Oggi qui a Pescara abbiamo lanciato l'accordo con Trenitalia che ci permette di mettere a disposizione anche a un prezzo vantaggioso il noleggio bici per chi arriva col treno e un modo per creare dal basso le alternative e quindi offrire un servizio diverso. Partiamo da uno strumento che già è attivo che è quello dell'utilizzo del trasporto in treno gratuitamente della propria bici. A questo uniamo l'accordo ciclato oggi con Lega Ambiente che permette a chi arriva nella stazione di Pescara di poter fruire del noleggio o piuttosto che della riparazione del deposito con sconti dedicati per il proprio utilizzo. Avete già dei riscontri anche in altre città di questo nuovo modo di spostarsi? Il tema della mobilità sostenibile è un qualcosa che appartiene a tutte le grandi realtà perché ci si mette a disposizione della comunità di strumenti che sono necessari per vivere la città in maniera differente. Sempre sul messaggero Bacca pronto a dare il meglio per l'Abruzzo il neosottosegretario a beni culturali e turismo una bellissima emozione ripartire dall'identità della regione e valorizzare il patrimonio artistico. Il deputato dei 5 Stelle ha giurato ieri dal premier Conte per l'ingresso nel governo. Poi ancora, sempre restando nel Pescarese, le lacrime di tocco per Caterina. La vita è in cielo. Tutto il paese si è stretto alla famiglia della giovane vittima del tragico incidente. Le colleghe era allegra e gioviale. Le pagine dell'Aquila sul messaggero partecipate Dino Pignatelli alla guida del centro turistico. Proseguono le nomine. L'ingegnere alla guida del Gran Sasso per tre anni all'ASM. Dovrebbe andare Paolo Federico Cimoroni. Dura spartizione tra le liste. Dal servizio elaborazione dati del Comune è stato scelto l'Avvocato Luciano Bontempo in quota Udc. Poi su fronte sanità, centrale del 118, occorre prima attivare il 112. Poi ancora ad Avezzano, piazza e mercato. Ecco le soluzioni. Dopo il vertice con le associazioni di categoria di sabato non cambierà nulla. Poi l'assessore esaminerà le proposte. In centro la soprintendenza si preoccupa degli edifici Liberty. La riqualificazione non passerà solo per l'ampliamento della fontana. Le pagine di Chieti. La cronaca. Una ragazza abortisce in casa. Scatta l'inchiesta della procura. I carabinieri sono intervenuti al policlinico in serata. Il sopralluogo nell'abitazione è stato il compagno a portare in ospedale a distanza di qualche ora il feto morto. Indagini coordinate dal PM Campo. La 26enne ha telefonato al 118 parlando di aborto spontaneo. E poi di spalla, asilo di Madonna delle Piane, la grandine fa danni chiuso. Si staccano alcuni pannelli dal soffitto a causa dell'acqua. Bimbi illesi. E poi questa notizia di sport. La squadra del softball si ritira dopo il brutto incidente stradale. La squadra è quella dell'Atoms Chieti coinvolta alcune settimane fa in un grave incidente stradale nel Salernitano. Le prognosi che sono state date alle atlete hanno costretto poi la squadra al ritiro. Sempre nel Chietino siamo a Cupello. Civeta ancora a fuoco. Scatta la vigilanza per la seconda volta in due giorni. Brucia la discarica da 450 mila metri cubi di rifiuti non pericolosi. A servizio del polo tecnologico a finire carbonizzata. è stata parte della frazione non differenziabile dei solidi urbani che arrivano in zona dai vari comuni del territorio. Poi ancora il sospetto del dolo. I conferimenti ora saranno limitati. Verrà inoltre istituito un servizio di presidio permanente. A vasto ladri a piedi sulla ferrovia per tentare il furto alla Iveco. I vigilantes li mettono in fuga. Sventato il colpo notturno alla concessionaria della Marina. Ora le pagine di Teramo. Acqua contaminata. Balletto di cifre tra Ruzzoretti e Asl. Secondo la società acquedottistica i parametri di Casemolino sono nei limiti. La distanza delle captazioni è di un'ora. A questo punto la palla passa a Fagnano. Il presidente Antonio Fornini ha diffuso i propri dati che sono tranquillizzanti. E poi Asl, computer in tilt, visite a Singhiozzo. Tanti problemi per i pazienti che dovevano effettuare esami di laboratorio e specialistica. In basso strage di multe. Siamo a Roseto. Cava, non potevo fermare le auto. L'ex comandante dei vigili di Roseto è accusato di falso ideologico. Voleva ottenere il premio di produzione. E poi, prima di lasciare il messaggero, siamo alla pagina della Costa Terramana. Giulianova, una bomba a mano nel giardino ordigno della Prima Guerra Mondiale, scoperto per caso in un campo incolto a casa di un noto medico giuliese. Sembrava una tartaruga, ha dichiarato, ma ha subito avvertito gli agenti. Sul posto sono arrivati gli artificieri per il recupero. Nella notte ha arrestato dalla postrada un giovane che rubava in un capannone. Poi sempre a Giulianova, ha arrestato mentre ruba in un cantiere, rumeni bloccati dopo inseguimento. Primi risultati della collaborazione tra carabinieri e reparti dalla capitale. Siamo ora sulle pagine della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Chiaramente grande spazio ai risultati del primo turno delle elezioni, ma con uno sguardo sempre al ballottaggio. Ecco qui, se vince D'Alberto, Covelli è fuori dal Consiglio. Calcola e ricalcola, cambiano ancora gli scenari della composizione della prossima assise civica. Morra o D'Alberto, nulla cambia. I civici reggerebbero comunque il candidato sindaco e il consigliere Ciapanna. La lista è quella di D'Almazio. Questa è la composizione del Consiglio Comunale di Teramo in caso di vittoria di Gian Donato Morra. Questa è la composizione del Consiglio Comunale di Teramo in caso di vittoria di Gian Guido D'Alberto. E poi leggiamo ancora se vince Morra. Le facce nuove in Consiglio saranno 12. Gatti risponde alle critiche di D'Alberto, svelando indirettamente la composizione della giunta Morra in caso di vittoria. Questi sono i volti di alcuni dei nuovi consiglieri in caso di vittoria di Morra. Sempre in caso di vittoria di Morra è quel toto giunta con alcuni nomi in primo piano. Sono Salvi, Fracassa, Provisiero, Cozzi e Marchese, ma anche, leggiamo in basso, Tiberi, Micheli, Sbraccia, Canzio, Corona e Cordoni. Sono i nomi più papabili all'interno dei quali scegliere i neoassessori. Questi sono altri volti nuovi che entrerebbero in Consiglio Comunale in caso di vittoria di Morra. Le parole di Sandro Mariani, uniamoci a D'Alberto, basta giocare a perdere. Il commissario Dem lascia campo libero al candidato sindaco, ma lancia un appello a Cavallari, Covelli e Di Dalmazio. Nonostante tutto per Mariani nel ballottaggio c'è la concreta possibilità di rovesciare il governo di centrodestra in città. E poi ancora, sempre in tema di ballottaggio, gli unici a dialogare sono i candidati sconfitti. A Morra potrebbe interessare un accordo con Cavallari, con D'Alberto meno margini di manovra. Le variabili di Dalmazio, Cavallari e Covelli hanno tempo fino a domenica per stringere patti in vista del ballottaggio. Queste sono le percentuali da dove si ripartirà. Morra al primo turno 34,63%, D'Alberto 21,13% e i candidati che non faranno parte del ballottaggio che possono essere un ago della bilancia. Avanti ancora, cambiamo argomento, niente casa popolare ai violenti di Berardo del Sicet, plaude la nuova legge che tutela le vittime, in particolare le donne. E poi ancora primari ASL, due concorsi in due settimane dopo la terna di ortopedia. Il manager Fagnano annuncia novità per chirurgia vascolare e cardiochirurgia. Per ortopedia sono in lì, la scuola nociuffoletti, il chietino fascione e il regente del reparto Villani. E poi ancora le notizie dalla provincia. Castellalto, guidata da un uomo solo al comando, l'ex assessore Valentina Tini sbotta dopo il rimpasto di Di Marco. Sono stata fatta fuori tre mesi fa, Tini che annuncia di restare tra i banchi della maggioranza, valutando le scelte di volta in volta. E poi, pagina 14, il Vescovo Centauro torna a San Gabriele. Domenica il raduno dei motociclisti con Monsignor Mencuccini per una gara di solidarietà in favore del Borneo. A Montorio, anche a Montorio si è votato, qui già c'è il sindaco, turno unico, il neosindaco Facciolini. Appello in ritardo per l'unità del centro-sinistra. A Montorio Andrea Guizzetti fa gli auguri a Facciolini e chiede di superare le divisioni interne e le ripicche. Lavoreremo lo stesso per portare avanti i nostri progetti, avendo sempre a cuore il futuro della città, dice l'ex vice sindaco. Qui siamo in Val Vibrata, ripascimento elettorale sulla costa. Fratelli d'Italia attacca la regione, soldi buttati senza ottenere risultati. E poi ancora siamo a Giulianova, bomba a mano nel giardino di casa, l'ordigno trovato da un uomo durante dei lavori di manutenzione. Cirso, quattro condanne per il percolato e la puzza, responsabili degli sversamenti, della raccolta di rifiuti vietati e della mancata realizzazione di sistemi di filtro. Le condanne imputati Diego De Caro, Lissangelo Di Matteo, Massimo Martinelli e Maria Francesca Siciliani. Il primo è stato condannato ad un'ammenda di 10 mila euro, gli altri tre invece hanno incassato un anno e quattro mesi di pena a testa. E poi a Roseto, vigilanza notturna sulla movida rosetana, provvedimenti del sindaco dopo la protesta dei residenti di Piazza Dante. Andiamo alla pagina dello sport della città. Ecco qui, ovviamente si parla di Teramo, Teramo la cessione entra nella fase decisiva. Incontro ieri a Francavilla tra Campitelli e Candeloro, mercato Cerofolini oltre a Pissardo. Dopo la visita del proprietario di Francavilla della scorsa settimana, ieri c'è stato il contatto tra i due presidenti. Segnale che la trattativa prosegue nonostante le ovvie smentite di circostanza. Ora un sguardo alle testate nazionali sportive. Ecco qui, la Grazzetta dà spazio a questa giornata inaugurale del Campionato del Mondo. Divertiteci un mondo. Questa è l'apertura con alcune delle stelle annunciate di questo mondiale. Mbappé, Neymar, Ronaldo, poi Thomas Müller e poi Iniesta. Oggi a Mosca via al Mondiale senza l'Italia. E qui di spalla leggiamo Spagna nel pantano scatenato dalla Real. Cacciato Lopeteghi, la Roca a Chierro. Poi ancora il Corriere dello Sport invece dà grande spazio all'inchiesta sullo stadio di Roma. Marcio su Roma, terremoto sulla città, resti per corruzione, rischio stop al nuovo stadio. E poi sotto la testata, Zitti a Mosca. Il momento purtroppo atteso è arrivato. Dopo 60 anni siamo solo spettatori. Lopeteghi paga col posto il Real dispetto. E poi in basso Allegri, ho detto no al Real per la Juve. Fairplay bis, stangata da l'UEFA, l'Inter dimezzata. E poi il novantesimo minuto è salvo. Sky ne prende sette. Ieri l'assegnazione dei diritti del prossimo triennio per la Serie A. Tutto Sport, Cancelo chiama Juve. Mi aspettavo più considerazioni dall'Inter. Voglia di Champions, dice il difensore. Poi sotto la testata mondiale, via nel caos. Di spalla, Toro Perez alle firme. Verissimo, altro blitz. Torniamo ora sui quotidiani abruzzesi per vedere rapidamente le pagine dello Sport. Sul centro c'è l'intervista al presidente onorario del Pescara, Vincenzo Marinelli. Pescara, tieniti stretto Sebastiani. Il presidente a ruota libera, senza Daniele il calcio in città non avrebbe futuro. Ma su Zeman ha sbagliato. La gente non capisce che non ci sono più imprenditori disposti a impegnarsi nel calcio. Pillon, sono d'accordo sulla sua conferma. Sarà un delfino ambizioso. Poi ci sono altri nomi per il mercato. Crivello e Mamarella per la difesa interessano il terzino sinistro del Frosinone, quello della Provercelli. In basso per la serie C, Teramo, Brunori e Ramos nel mirino. Poi ancora per la serie D, salta la fusione San Nicolò-Virtus Teramo. La rottura tra le parti quando stava per essere definito anche lo staff tecnico. L'ex presidente Lecchietti Trevisan dice non entrerò nella società del Giulianova. E poi Juniores di serie D, Pineto a Viareggio per conquistare la finale Scudetto oggi contro la Re Canatese. Poi la vertenza, Pescara condannato a risarcire 11 tesserati per 350 mila euro. Il Pescara calcio a 5. Mentre per l'acqua e sapone ieri c'è stato il pranzo per celebrare il tricolore. E ora andiamo sul messaggero Abruzzo. Anche in questo caso le pagine dello Sport. Pescara un milione grazie a Torreira. Il Delfino incassa la quota dopo il passaggio del centrocampista. Ora la Samp all'Arsenal. Il Baby Class 2002. Mercado invece piace al Bayern Monaco che potrebbe fare delle follie. Sabato all'Adriatico come abbiamo visto ci sarà la finale play-off di Lega Pro tra Cosenza e Siena. E per il basket, Sherrod Roseto torno a casa mia. Gli Sharks hanno richiamato il centro americano dopo la stagione trionfale coincisa con i play-off. E poi ancora, vediamo quest'ultima pagina, serie D, l'Aquila più fiducia con Conti. La prossima settimana l'ex campione del mondo probabilmente sarà in città. Assumerà pieni poteri nell'ambito della guida tecnica ma intanto bisogna risolvere i nodi delle scadenze. Spazio anche alla MotoGP con il vastese Iannone. Ho voluto tornare all'Apriglia, ha detto il pilota di Vasto, testimonia l'Alpitti che commenta per la prima volta anche il rapporto in crisi con Belen. Noi ci fermiamo qui. Finisce questa edizione di mattino 6. Vi ricordo gli appuntamenti odierni con le principali edizioni del TG6 alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Vi ricordo in particolare l'appuntamento di questa sera alle ore 21 in diretta, la trasmissione Velo condotta da Jacopo Forcella con la partecipazione dell'ideatore Luciano Rabottini, il nostro settimanale dedicato al mondo del ciclismo. Grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi per la cortesia attenzione. Buona giornata. Grazie a tutti.